I due corremono insieme. Ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al secondo. Vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse in tanto ante Simón Pietro. Che è pa' chitarra? Ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro. Divine e credente. No. 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 Grazie a tutti.